stiamo scendendo a quanti metri scusa 60 qualcosa metri al primo livello dobbiamo arrivare giù sotto che sono 384 metri non ce la posso farla ricordare guarda dove mi si è attaccato la decima 17 dobbiamo andare a 60 giro giro tondo casca il mondo niente nello scendere qualcuno ha scorrezzato c'è la scia che arriva fino a su un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 No ma la domanda del giorno è questi sono i bagni più profondi della Polonia, ma quando c'è l'acqua. Dove che va? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.